insomma tutte le mattine dalle 7 alle 9 si parla di Milano e lo facciamo anche questa mattina insieme a Nino Ferrante buongiorno Nino benvenuto buongiorno Fabio grazie a Cristal Radio e a Good Morning Milano ovviamente per appunto l'opportunità di essere qui con voi oggi ma grazie a te Nino perché insomma oggi parliamo di fotografia e parliamo di Milano Milano e fotografia insomma un binomio che a noi piace tanto perché ci piace tanto Milano ci piace tanto vedere le fotografie e poi in particolarità ogni tanto ci piace anche fare qualche foto insomma è sempre bello riuscire a raccontare qualcosa con un unico scatto o con una serie di scatti insomma che nel mondo, io arrivo dal video no, quindi nel mondo di questi video ma che sono anche un po' inflazionati ogni tanto fare quella fotografia che magari non è la fotografia del grande artista ma è quella che ti racconta qualcosa beh è inestimabile come valore no? Esatto la fotografia è un po' questo è racconto e tante cose poi ognuno la interpreta alla propria maniera poi sì la differenza più sostanziale rispetto al video è che lascia appunto lo spazio all'interpretazione alla lettura e quindi può toccare anche delle corde personali e infatti e parliamo con te nino perché appunto l'associazione che tu presiedi che è Milano Fotolab ha messo in piedi diciamo così una mostra in questo momento all'auxologico di Porcaccini scusa di Porcaccini che proprio si chiama Milano è un gran Milano e sono appunto degli scatti fotografici di Milano Fotolab di fotografie appunto che fanno parte della vostra associazione ma la cosa interessante è che insomma questo arrivo è quasi appunto un arrivo e poi una ripartenza per chi sa quante altre mostre perché insomma vi piacerebbe farne altre giusto? Esatto sì sì le mostre sono diciamo la possibilità appunto dà la possibilità ai nostri soci di appunto mostrare i propri lavori e quindi diciamo condividere con i cittadini perché poi sono sostanzialmente attività di territorio scatti in questo caso a tema Milano scatti che non hanno diciamo velleità artistiche ma hanno l'ambizione proprio di raccontare questa città piena di contraddizioni piena di tante cose anche belle e raccontarle in un luogo nel quale mediamente si arriva con un po' come dire essendo una struttura ospedaliere barra ambulatori quindi diciamo che lo stato d'animo di chi è lì il mood come dicono i giornali il mood le vibes non sono proprio le migliori anzi o meglio il mood non è il migliore le vibes che ci arrivano dalle vostre fotografie ci rendono invece magari un po' più insomma non proprio dico felici di essere lì ma insomma comunque ci fanno passare meglio quel momento la cosa interessante però di questa operazione che appunto è un percorso che voi avete iniziato tanti anni fa con invece quello che poi è diventato anche un gruppo facebook ma che era proprio l'idea di trovarvi raduni fotografici milanesi esatto raduni fotografici milanesi è un po' la genesi del nostro percorso della nostra storia ed è nato quasi per scherzo perché era un gruppo che aveva l'intenzione di mettere in relazione appassionati di territorio quindi appassionati principalmente milanesi per consentirgli di praticare la fotografia in maniera come dire non in solitaria ecco e quindi è nato questo gruppo inizialmente su whatsapp poi era diventato ingestibile perché whatsapp è in tempo reale quindi era impossibile mettere insieme comunicazione di quel tipo e diciamo il social più congeniale per portare avanti questo progetto era facebook perché ci consente di creare appunto degli eventi ecco ma quando dici ci, noi, volevamo, chi erano questi noi? eravamo sette fotografi, sette amici, sette fotografi che a un certo punto si sono trovati a dover gestirne più di 400 inizialmente oggi siamo a 1700 fotografi appassionati di territorio se vuoi ti do il numero preciso, 1783, sto in questo momento sul vostro gruppo quindi ci sono tre che si sono aggiunti all'ultimo si sono aggiunti mentre arrivavo qui questa mattina sì perché poi c'è il passaparola questo gruppo è molto particolare io lo definisco un progetto umanografico perché parla sì di fotografia e adesso ti spiego un po' Fabio le dinamiche di questo gruppo ma soprattutto mette in relazione le persone infatti noi utilizziamo un social diciamo web diciamo un social per uscire dal web perché poi è solo un collettore per mettere assieme le persone quindi le caratteristiche di questo gruppo sono quelle di dare a chiunque la possibilità di creare un evento evento al quale diciamo possono partecipare tutti gli appassionati e successivamente a questo evento diamo la possibilità appunto su raduni fotografici milanesi di condividere le foto ma solo disclusivamente foto risultato di uscite tra iscritti aspetta 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 spieghiamo bene questa perché passa così ma invece è interessante cioè io faccio parte di vari gruppi tra la gente che fa video ognuno fa il suo video, fa la sua foto la pubblica al suo dice guarda quanto sono bravo a mo' di vetrina gli altri lo insultano più delle volte qualcuno dice sei bravo ma raramente e finisce lì e finisce lì esatto quindi invece non è così io mi iscrivo adesso faccio una bella foto qua fuori alla nostra producer con dietro lo stadio di San Siro non puoi postarla non posso postarla non puoi postarla assolutamente perché il gruppo non è nato per essere vetrina ma è nato per mettere in relazione le persone quindi per fare questa foto devi creare un evento al quale possono arrivare 5, 10, 15, 20 fotografi a volte è abbastanza schizofrenica l'attività del gruppo perché chiunque diciamo si sveglia e dice domani mattina alba in Duomo piuttosto che andiamo alla diga del pan perduto e quindi si aggregano tutta una serie di fotografi e successivamente nei due o tre giorni successivi a quest'uscita arrivano un fiume di immagini create la cosa particolare di questo gruppo è che non è un gruppo social di persone che non si conoscono ma è un gruppo di amici perché poi si va a fare fotografia poi si mangia insieme abbiamo visto comunque nascere amicizie storie d'amore abbiamo riempito il vuoto di qualche persona che attraverso la fotografia ha trovato una seconda casa ovviamente dovrò sapere anche della storia d'amore tu l'hai buttato di così però sai che noi ebbe subito gossip il radio funziona benissimo ma veramente è molto interessante questa cosa usare uno strumento online come quello di facebook per invece poi passare la nostra vita offline anzi andare di persona questa cosa dei raduni che vanno a fare le foto all'alba in Duomo ti chiedo di farmi sapere quando c'è ma ho detto non per fare le foto così per vedere per vedere uno chi sono i matti che si svegliano prima di me la mattina che già ce ne vuole e poi perché vabbè comunque deve essere uno spettacolo vedere Milano con gli occhi di chi l'ama e immagino che per andare all'alba fare le foto in Duomo sì devi amare la fotografia ma devi amare anche questa città ho idea assolutamente sì piccola pausa con la musica o meglio una canzone e poi torniamo ancora qui a parlare con Lino Ferrante di Milano Fotolab di raduni fotografici milanesi delle mostre che stanno organizzando la rappresentante di lista con Paradiso e invece fatti un giro a città in Milano così a fare fotografie lo puoi fare con il gruppo di raduni fotografici milanesi invece di andare a fare un giro nella testa della rappresentante di lista che insomma non solo ci possiamo trovare forse è meglio andare in giro con voi sì bisogna svegliarsi presto bisogna avere passione se ho la passione per il tramonto assolutamente io ho parlato di albe ma vanno benissimo anche i tramonti va benissimo tutto e ti ho parlato anche di storie d'amore perché ovviamente le motivazioni che spingono le persone ad avvicinarsi a un gruppo ovviamente sono diverse tra le tante motivazioni c'è quella appunto di trovare un compagno quindi ma ti ho parlato di un progetto umanografico e quindi ecco per diciamo finire il racconto di raduni fotografici milanesi diciamo che il fil rouge il comune denominatore è la passione per la fotografia e la voglia di condividerla con con altre questi sono i due elementi chiave del gruppo e sostanzialmente le persone ovviamente aderiscono con queste iniziative e poi hanno diciamo avuto la possibilità di trovare di approfondire anche le conoscenze non solo della fotografia ma anche dei vari fotografi diciamo così esatto tra parentesi è molto più sano che andare in palestra posso dirlo da non sportivo esatto cioè questa cosa che voi vi iscrivete in palestra per andare a cuccare non funziona più ormai lo si sa benissimo non funziona più invece chi ne senti perché magari poi volete mettere la passione per la fotografia quanto volete parlare quanto volete discutere guardare le foto sali su da me che ti faccio vedere le mie collezioni di fotografie esatto funziona esatto cos'è sali su da me che ti faccio vedere i bilanceri o le farfalle o la colazione di farfalle basta è chiaro a un certo punto vi siete trovati però anche nel voler fare un po' di più nel senso che avete dovuto anche un po' diciamo per chi magari era un po' meno avvezzo alla fotografia al tecnicismo anzi appunto dargli la parte più tecnica giusto quindi a un certo punto è nato all'interno del gruppo proprio grazie alla condivisione post evento delle foto ovviamente emergevano e spiccavano fotografie di alcuni un po' più come dire professionali alcuni che hanno fatto dei corsi un po' più fotografi e quindi diciamo è nata all'interno del gruppo l'esigenza di didattica di percorsi strutturati di eventi strutturati ma se l'avessi se avessi introdotto in raduni fotografici tutto quanto appena elencato avrei snaturato esatto la natura del gruppo che invece deve rendere diciamo le persone mettere le persone sullo stesso piano perché se parliamo di passione e se parliamo di voglia di stare assieme non c'entra niente non ci sono maestri esatto non ci sono maestri invece cosa è diventato con Milano Fotolab allora cosa abbiamo fatto abbiamo diciamo con alcuni diciamo amici di quello che inizialmente era un gruppo abbiamo fondato un'associazione culturale nel 2020 ora diventata una PSTS e questa associazione culturale ovviamente si chiama Milano Fotolab ed abbiamo diciamo convogliato tutta una serie di attività tra le quali appunto le mostre quindi diciamo è solo un aspetto la mostra del nostro diciamo del nostro impegno e del nostro statuto e abbiamo diciamo portato in quel contenitore tutto ciò che è tecnico e lasciando a raduni quell'aspetto un po' Fabio uso un termine un po' un po' cazzone usciamo il cazzone di usciamo divertiamoci quella roba facciamo le foto e quindi ha quell'approccio un po' più easy però accanto c'è Milano Fotolab associazione culturale strutturata eventi didattica post produzione dove troviamo le coordinate per Milano Fotolab appunto per capire un po' meglio allora Milano Fotolab ovviamente abbiamo un sito che è appunto www.milanofotolab.it siamo su facebook punto Milano Fotolab siamo su instagram appunto Milano Fotolab e invece raduni fotografici milanesi su facebook perché è diciamo il social tecnicamente più adatto a gestire eventi quella la mostra che c'è fuori dall'oxologico di Procacinesso è una mostra so che l'idea sarebbe quella di strutturare anche quella esatto la mostra in Procacini di fatto è una come location ma i temi che si sono succeduti sono tre sostanzialmente siamo al terzo tema perché il primo tema che abbiamo trattato è stato quello delle periferie per mostrare diciamo la città non solo quella patinata del centro ma la città anche quella meno diciamo normalmente vista in fotografia la seconda fase erano le botteghe storiche e i luoghi di culto della città e ora fino al 15 di luglio stiamo sondando un po' l'aspetto romantico della città e il rapporto dei milanesi con i propri animali domestici perché Milano Fotolab è una situazione culturale pet friendly facciamo spesso delle attività di dog fotografi e quindi siamo appassionati anche di animali non è neanche facile fare la foto del proprio cane io ho una serie di foto del sedere del mio cane perché una volta che tu si gira regolarmente Elisa tu che hai due cani riesci a fare le foto del tuo cane insomma non è difficile quindi sarebbe un corso solo per quello esatto ma esistono esistono non li teniamo ricordatevi una cosa che se pensate una cosa nel momento di stress adesso in cui l'avete pensata già esiste ormai è così ormai c'è tutto e quindi questa è stata una mostra ed è una mostra tuttora in essere molto apprezzata dai cittadini ha avuto parecchio successo al punto che Auxologico ci ha chiesto del materiale per poter arredare in modo permanente alcuni loro spazi con delle foto di grande formato in bianco e nero a tema appunto Milano e quindi abbiamo fornito del materiale di qualità per poter appunto arredare questi spazi ospedalieri ci sia soddisfazione migliore che vedere appunto le proprie foto della propria città diventare parte essa stessa della città esatto per me è una grande soddisfazione per i miei soci perché poi sostanzialmente i nostri soci sono quelli che hanno avuto questa possibilità ricordiamo quanti fotografi sono a Milano Milano Fotolab siamo circa 170 180 fotografi giusto un paio come si dice in questi casi scrivilo qualcuno in più già che ci sei esatto benissimo Nino io ti ringrazio tantissimo davvero per questa tua chiacchiera per queste tue informazioni e soprattutto per le foto che fate appunto per raccontare la nostra città il progetto umanografico come te lo chiamate umanografico umanografico bellissimo questa te la rubo te lo dico questa te la rubo perché è davvero qualcosa di stupendo dacci una definizione di umanografico così ancora per concludere per chiudere ovviamente umanografico nel senso che c'è la parte umana la parte sociale l'interazione tra le persone e la fotografia quindi questo è un po' la definizione del progetto umanografico esiste la bella o la buona fotografia esistono entrambe esistono entrambe la bella è una fotografia estetica ma poi si entra nella soggettività la fotografia racconta ed è come la musica parlo con te di musica perché ovviamente siamo in una radio possiamo far ascoltare la stessa canzone a cinque persone e trovarne due che piangono perché questa canzone ha toccato delle corde del proprio vissuto e tre alle quali quella canzone non dice niente la fotografia è esattamente così non c'è un un cliché insomma è un racconto e può funzionare come non può funzionare in base a chi ovviamente ne fruisce insomma chiarissimo grazie per dover di cona che lo dico la buona la bella fotografia non è farina del mio sacco ma a settimo Benedusi grande fotografo di Milano che spesso cito e quindi anzi che oggi cito perché oggi è suo compleanno quindi auguri a settimo Benedusi auguri grazie mille ancora Nino saluta e porta una saluta appunto a tutti a tutti 1783 credo vediamo se si sono aggiornati perché in questo minuto qualcuno si è aggiunto in questo anno si è aggiunto no 1783 ok bisogna accettare l'iscrizione è qua è come fa a accettarla giustamente quindi 1783 porta i nostri saluti a loro e anche gli altri fotografi di Milano Fotolab Fabio io ringrazio te e chiudo ringraziando anche il direttivo che lavora con me appunto alla crevente nel realizzare tutti questi progetti e sappiamo quanto è complicato essere un APS TS in questo tempo anche se fate passami i termini solo fotografie è complicatissimo davvero quindi complimenti a tutto il direttivo complimenti a tutti i soci complimenti appunto a Milano Fotolab e a Raduni Fotografici Milanesi grazie mille a Nino Ferrante grazie ancora speriamo di vederci in giro magari al tramonto a fare qualche foto a me mi piace di più un bel tramonto Naviglio tramonto secondo me perfetto con un aperitivo annesso ottimo spritz perfetto va bene andiamo avanti con la musica e torniamo fra poco dopo il giornale radio sempre qui su Cristian Radio con Good Morning Milano grazie a tutti